Abbiamo lavorato bene secondo me, due settimane tutta la squadra ha lavorato bene e dopo quello che conta è la squadra. Se mi fa giocare mister esterno gioco, se mi fa giocare centrale ancora rigioco, non è un problema per me. La Bologna è una squadra importante, abbiamo visto che l'anno scorso, quasi tutte le partite i tifosi erano allo stadio, una squadra che sta crescendo, una squadra che il presidente e tutta la società vuole fare ancora di più. Tutto dipende adesso da noi, perché noi abbiamo tutto, un nuovo centro sportivo, quasi piano piano faranno quello allo stadio che ho letto anche io. Noi dobbiamo fare meglio e dobbiamo giocare per tutti questi che vengono allo stadio. Tutto si vede al campo, noi dobbiamo lavorare e dobbiamo cambiare cose che non sono andate bene l'anno scorso, ma dobbiamo dimostrare, dobbiamo fare al campo, non qua o tra di noi, dobbiamo dimostrare al campo. Secondo me questo è il più importante da tutto.